1990, Jugoslavia sull'urlo della guerra civile e il calcio diventa scintilli ideali. Stella Rossa di Nemo Zagabria, polizia serba contro i tifosi croati. Zvone che interviene con le maniere forti a difendere chi in quel momento rappresenta il suo popolo, non solo i suoi supporter. Si può discutere il gesto, non il coraggio e soprattutto l'assunzione di responsabilità. Una vita orgogliosa, sempre a petto in fuori.